Siamo a attaccare con Turkovic che va verso sinistra, legge benissimo l'azione Turkovic e poi ciliegina sulla torta, il pallonetto di Demis Radovci. Il pallone nelle mani sempre di Rotondo che fa una golla spettacolare, palla all'incrocio dei pali, in doppio appoggio, un missile di Laura Rotondo. Il pallone di Meneghin per Delbalzo, la palla è vagante, la fa proprio Delbalzo che poi va a una conclusione geniale. Di Bianca Delbalzo, gran gol, grande freddezza fino all'ultimo in una posizione di difficoltà. Andiamo a giocare, il tiro, è la rete, è la rete, è la rete, gol, passiamo a noi, passiamo a noi, gol di Turkovic, passiamo a noi, Turkovic. Grazie a tutti.